Spesso i rapporti non vanno come vorrettimo, vorressimo, non vanno bene. Giovanni! 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 Ehi, ma come stai? Ma tutto bene? È successo qualcosa? L'amicizia segnata nel profondo. Giovanni, perché non parli? Un rifiuto. Dai, Giovanni, prendiamoci un caffè. No! Tratto da una storia vera di un'amicizia falsa. Dai, è un sacco di tempo che non ci vediamo. Dimmi qualcosa. Perché non vuoi parlarmi? Aruti fatta Paschka, fatta pure Natale. Aruti fatta Paschka, fatta pure Natale. Un film del regista di questo film. Candidato come miglior film peggiore, che non uscirà mai al cinema.